Domani, martedì 12 settembre, tra le ore 12 e le 13, tutti i cellulari collegati a celle di telefonia mobile delle Marche, Campagne e Friuli Venezia Giulia squilleranno contemporaneamente con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche. IT Alert, il nuovo sistema di allarmi pubblico nazionale, arriva infatti nella nostra regione con un messaggio di test che una volta a regime potrà essere attivato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Questa iniziativa, voluta dalle istituzioni europee, è stata intrapresa dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale che ha dato il via al percorso in molte regioni italiane. Non è necessario iscriversi né scaricare alcuna applicazione. Presidente Olivi, chi riceverà il messaggio? Il messaggio verrà ricevuto da tutte quelle persone che sono intorno a quel ripetitore. Vi faccio un esempio, se siamo alla rotonda di Sant'Orso e la rotonda di Sant'Orso copre determinate utenze, quei telefoni che si collegheranno a quel ripetitore della rotataria di Sant'Orso riceveranno tutto il messaggio. Naturalmente non sarà solo la rotataria di Sant'Orso ma saranno tutti quei ponti che orbitano nello spazio, nella zona interessata, quindi tutti quei telefonini riceveranno un'allerta molto pesante, un suono molto pesante che li porterà a leggere quel messaggio. E una volta operativo a livello nazionale, quando verrà attivato questo sistema? Verrà attivato e oltre ai messaggi normali della Protezione Civile verrà attivato quando la zona verrà interessata. Adesso si parla di vulcano, qui non ne siamo interessati, di maremoto non ne siamo interessati, nella nostra zona. Però noi siamo interessati, abbiamo fatto quel servizio del Dipartimento Nazionale sull'LBCR, parlavamo di un avvelenamento di un pozzo. Quanto tempo ci vuole per avvisare la cittadinanza affinché venga a conoscenza di questo problema? Con il T-Alert, questione di qualche secondo, tutti quelli che sono intorno a quel pozzo, a quella zona, leggeranno sul proprio telefonino di non bere l'acqua, ad esempio, perché quella parte, quella zona potrebbe essere incontaminata. È un messaggio che arriva subito, immediato. Basta solo leggerlo e non c'è bisogno di rispondere, non c'è bisogno di privacy. Arriva solo quelli che sono sotto quella copertura di quel ponte telefonico. E i cittadini che domani riceveranno questo messaggio, che cosa dovranno fare? Beh, innanzitutto sarà un messaggio assordante, quindi per qualcuno sarà una sorpresa. Ecco perché siamo qui oggi, ecco perché durante la settimana tutti i social hanno dato la notizia, perché non si devono andare male, perché ci sarà scritto esercitazione e esercitazione sul messaggio e quindi capiranno che è un messaggio di prova, devono solo dare un termine a quel messaggio. Dopodiché, tutto quello che ha creato quel messaggio, chi vuole far sentire la propria voce e dare il proprio contributo potrà andare sul sito della regione o sul sito di Itila Alert e in pratica lasciare il suo feedback, cioè dare dei consigli oppure delle migliorie. Quello che pensa può esprimere la propria opinione.